Come si suol dire in questi casi, purtroppo l'occasione fa l'uomo ladro e quindi lui non ha saputo resistere a questa tentazione, però è anche vero che subito dopo aver commesso il fatto è stato subito assalito da questo pensiero di pentimento, di rimorso nel confronto di quello che aveva fatto. È successo ad Arezzo dove un operaio quarantene dopo aver trovato a terra un borsello contenente una carta di credito, anziché riconsegnarlo ha deciso di comprare dei costosi regali per la fidanzata. La vicenda risale al novembre 2015, circa 3.000 euro le spese pazze del ladro per amore, tutti acquisti ovviamente per la sua dolce metà, un prezioso anello ed una collana d'oro con un diamante, uno smartphone ed infine il pieno di benzina all'auto. Ma subito dopo gli acquisti era arrivato il rimorso di coscienza, l'uomo aveva così deciso di chiamare il proprio legale che gli aveva consigliato di restituire tutto ai carabinieri e autodenunciarsi. Il primo atto è stato il suo che si è rivolto a me, dopo ovviamente si sono intrecciati profili di natura giuridica, profili etici e diciamo anche profili di mera convenienza processuale che hanno portato anche me ad accompagnare lui presso i carabinieri e a risolvere la questione in questa maniera. La storia si è conclusa qualche giorno fa con il patteggiamento a dieci mesi di reclusione, pena sospesa. Sono state riconosciute anche le attenuanti generiche, ha patteggiato la pena con pena che poi è stata sospesa. Quindi basterà che lui ora righi dritto, tra virgolette, per cinque anni e tutta la vicenda sarà chiusa.